Buongiorno, abbiamo una novità in casa Emons. Da oggi potrete ascoltare i nostri audiolibri, un assaggio dei nostri audiolibri, prima di acquistarli anche in libreria. E questo è possibile grazie a questi fantastici bollini che troverete sulle nostre copertine. I primi fortunati sono i Sommersi e Salvati, il Maestro e Margherita. Inquadrando con la fotocamera del vostro telefonino il bollino, verrete riportati ad un sito dove ci sarà la possibilità dell'ascolto di un assaggio dell'inizio dell'audiolibro. Buon ascolto e grazie.